Un misterioso essere immortale viene inviato sulla Terra senza emozioni né identità. Quest'essere è in grado di copiare e assumere l'aspetto di tutto ciò che esiste. Inizialmente gli è stata data la forma di una sfera, in seguito assume la forma di una roccia. Infine, quando un lupo solitario ferito muore lì accanto, l'essere ne assume la forma. Finalmente ottiene la consapevolezza di essere vivo e inizia a percorrere la tundra finché incontra un ragazzo, il padrone del lupo, che lo accoglie come se fosse il suo animale. Il ragazzo vive da solo in una città fantasma e nevata, che gli adulti abbandonarono molto tempo fa alla ricerca di un posto migliore. È da questa premessa che si sviluppa un incredibile prologo di questa nuova storia, che si prospetta essere qualcosa di veramente fantastico. Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del primo episodio di Tuyori Eternity, un nuovo anime uscito proprio adesso, iniziato proprio adesso, quindi della stagione primaverile, che veramente mi ha colpito tantissimo. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'adattamento animato del manga omonimo, che fra l'altro è stato scritto dalla stessa autrice di A Silent Voice. E già da questo avevo aspettative molto alte, tant'è che io A Silent Voice, soprattutto il film, l'ho letteralmente amato. Stavo pensando che forse questa maglia è un tantino fuori luogo per questo video, di quest'anime, però volevo provarla sinceramente. E se non sapete di cosa sto parlando è perché non avete visto il video di ieri, quindi recuperatelo. L'episodio 1, senza fare spoiler, posso dirvi che può essere visto come qualcosa di autoconclusivo, che lascia un grandissimo senso di soddisfazione e di completezza al suo termine, perché ragazzi è veramente qualcosa di incredibile. Raramente si provano così tante emozioni per un episodio introduttivo di un anime che è appena iniziato. Credo infatti che sia stato uno dei migliori primi episodi che io abbia mai visto. Sin dai primi minuti veniamo catturati all'interno di questa storia, grazie anche alla fantastica voce del narratore, che ci accompagnerà fino alla fine della puntata. Musiche meravigliose, adatte all'atmosfera, coinvolgenti, che insieme alle scene, all'ambientazione, riescono davvero a fare il loro compito al meglio e anche a farci emozionare moltissimo. Nonostante questo sia solamente l'inizio, secondo me è davvero difficile per un'opera riuscire a farti affezionare così tanto a un personaggio in una sola puntata. Eppure questo Toyo Returnity ci è riuscito, perché ho provato veramente tantissime emozioni vedendo alcune scene con protagonista il personaggio principale di questa prima puntata. Da un punto di vista tecnico le animazioni sono sicuramente buone. Possiamo dire, magari se vogliamo essere un po' pignoli, che comunque nelle scene in cui i personaggi si vedono in lontananza, forse non sono proprio il top, però i primi piani, che sono la cosa fondamentale e soprattutto ciò che esprimono i personaggi con le loro espressioni facciali, sono realizzate in una maniera impeccabile. E anche ovviamente i paesaggi che fanno da contorno e non solo. In una sola puntata vengono approfondite delle tematiche veramente profonde e interessanti, come quella della solitudine, che è sicuramente la principale. E magari ciò che essa può comportare da un punto di vista psicologico ad una persona. Ma anche l'angoscia, la speranza, che poi però è contrapposta all'illusione. Toyo Returnity è una fantastica esperienza visiva, che si prende il suo tempo perché ha un ritmo piuttosto lento, ma che riesce comunque, secondo me, a coinvolgerti davvero tantissimo. So che non ha preso e conquistato tutti, però se posso dire la mia, secondo me è perché magari l'avete visto in un mood che magari non era proprio il massimo. Secondo me andrebbe visto davvero quando siamo rilassati, tranquilli e sereni. Per poi, ovviamente, provare tutte quelle emozioni che ci dà la puntata. Dobbiamo proprio lasciarci trasportare dalla storia. Continuo a ribadire, in una sola puntata riusciamo a provare così tante emozioni e sensazioni, sia belle che non, ed in particolare possiamo dire che la storia, nonostante sia prevedibile e semplice, resta qualcosa di davvero sconvolgente e impattante per come è stata messa in scena. E poi sul finale il colpo di scena c'è e sinceramente mi ha lasciato davvero di stucco. Stavo lì lì per piangere e sappiate che a me capita molto raramente. Si tratta di un anime che racconterà di un viaggio, un lungo viaggio, forse anche eterno, come dice il titolo. Ricco di emozioni, esperienze, luoghi, persone, metafore, filosofia. Adesso, dopo quest'inizio, mi aspetto veramente tantissimo e penso che questa serie possa davvero diventare un capolavoro. Tenendo a mente il vero significato del termine, e cioè che magari possa diventare una storia che poi verrà utilizzata come fonte ispiratrice per tantissime altre opere. Parlo comunque da qualcuno che ha visto solamente una puntata e non conosce nulla del manga, quindi non so se dopo magari diventa più bruttino, meno interessante o quant'altro, ma sinceramente dopo quest'inizio io ho capito di che tipologia di serie parliamo e di certo non mi aspetto robe pienissime di colpi di scena, di azione, di roba dinamica, perché non è quello che la serie vuol dimostrare, però, come vi ho già detto prima, vuole essere una serie molto più profonda e complessa. Che però queste cose, secondo me, tenderà a rappresentarle mostrandoci delle scene molto quotidiane. Sicuramente però con un pizzico di sovranaturale basti pensare a quello che succede alla cosa, così viene chiamato questo essere misterioso dal narratore stesso. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa prima puntata di The Year of Eternity, o se lo guarderete, se non l'avete ancora visto, se la pensate come me, che possa diventare un anime eccezionale, oppure se magari ci stiamo facendo un po' troppe aspettative. Resta il fatto che comunque questa prima puntata sia stata clamorosa. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, se con i suoi social è andato qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.